coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte edgar allan buongiorno buongiorno e buon sabato 10 aprile il sabato di parma milan ore 18 arbitro signora maresca aspettavo come dicevo negli altri negli ultimi video l'aspettavo questa partita finalmente perché voglio capire subito e voglio vedere subito la reazione del milan dopo il pareggio contro la sampdoria milan che nelle ultime trasferte ha sempre giocato con il cipiglio giusto con l'atteggiamento giusto voglio vedere anche domani milan che deve approfittare di un parma in buone condizioni ma con tanti assenti come gli altri hanno approfittato delle assenze del milan deve essere il milan approfittare delle assenze delle a degli avversari dunque una partita importante perché il milan mai aveva così vicino due squadre a due a un punto per il secondo posto secondo posto che deve essere l'obiettivo dopo aver perso lo scudetto a proposito ieri i grandi dei trameschi ma pioli ha detto non ha detto mai usato la parola scudetto allora innanzitutto diciamo che quando si nomina la parola scudetto non è una parolaccia perché vuol dire che la squadra che nomina la parola scudetto o che non nomina la parola scudetto o che avrebbe o non avrebbe nominato la parola scudetto vuol dire che lì vicino allo scudetto quindi il milan non ha mai nominato la parola scudetto quando era in testa la classifica ma qualche giocatore come reazione quando il milan è stato superato dall'inter ebbene ha incominciato per caricare un po' l'ambiente un po' per esorcizzare ci crediamo ci crediamo era un momento difficile poi l'inter ha salutato la compagnia e se n'è andata ora nessuno adesso vuol nominare la parola secondo posto però bisogna stare concentrati proprio perché il milan deve pretendere di arrivare secondo ricordiamo l'anno scorso l'inter che è arrivato quando la juventus ha rallentato un po' il passo ormai campione d'italia è arrivato a un punto e su questo e su questo cammino importante arrivando un punto ha costruito poi quest'anno quindi arrivare secondo vuol dire molto per il milan perché bisogna migliorare e migliorare ci sono una sono una posizione il primo avendo vinto così tante partite quest'anno il milan merita certamente di riuscire a lottare fino in fondo per questo secondo posto che magari per la juventus abituata ad arrivare prima a un a un significato non così importante ma per il milan secondo posto vuol dire ritornare indietro se non erro di nove anni perché il milan è arrivato secondo nel campionato 11 12 poi il secondo posto è sempre stato una chimera prendendo 200 e rotti punti sempre dalla juventus negli ultimi anni oggi essere un punto davanti alla juventus cambia il trend si diventa la situazione torna totalmente normale cioè il milan è davanti alla juventus che negli anni scorsi è stata una situazione nella storia è una situazione normale perché il milan può essere un punto può essere davanti o di dietro però il milan davanti alla juventus è una situazione di una squadra che ha vinto 18 scudetti ed è uno dei top club italiani e quindi incomincia una è una stagione questa stagione la stagione della del ritorno alla normalità ma sono tutte parole oggi bisogna vincere il milan deve vincere partirò per parma pieno di speranze entro il tardini dove si vede benissimo ho visto il rendering del nuovo stadio tardini molto avveniristico molto bello però sono affezionato a questo tardini che frequento non da tantissimi anni perché il parma non è da tantissimi anni che diciamo gli ultimi diciamo 9 20 20 20 22 23 anni prima negli anni 60 70 80 io a parma non c'ero mai stato il tardini è veramente un altro stadio dove la partita un po come marassi un po come san siro sei lì te lo gusti la nella la tua a pochi metri dal campo e oggi sarò lì al tardini dove il milan dove il milan e a parma è già arrivato ma dove il milan entrerà in campo per giocare alle 18 con questa formazione donna rumma calulu è favorito su dalotto dovrebbe giocare calulu poi chier tomori e chier centrali a sinistra teo hernandez a centrocampo benasser e che si a destra se le mecher a sinistra rebic centrale cialanoglu la davanti ibra supremaci ma la panchina finalmente è ricca perché oltre che i due portieri abbiamo dalot e gabbia abbiamo tonali e meite e crunic abbiamo leao manzukic e aughe incomincia a essere una panchina bella polposa bella corposa e quindi possono aumentare le scelte di pioli pioli che ieri ha parlato anche della questione rinnovi ma come sta vivendo questa situazione parla coi ragazzi a me interessa vederli tranquilli ha detto stefano pioli e a proposito dell'annoso problema dei rinnovi io vi posso dire una cosa non voglio parlare di mercato non voglio parlare oggi bisogna essere concentrati sulla parità saremo tutti lì per cercare di ridistaccare la juventus l'atalanta il napoli la lazio e la roma in attesa che poi giochino loro e vediamo quale sarà la situazione domani sera però posso dire una cosa per il discorso donna rumma e cialanoglu credo proprio che se i due il difensore il il estremo difensore cioè il portiere e il numero 10 non verranno a casa milan a discutere il milan sarà assolutamente li lascerà assolutamente tranquilli fino al 24 maggio cioè lunedì 24 maggio quando il giorno dopo dell'ultima partita di campionato e poi se ne parlerà il milan vuole vuole che i ragazzi siano totalmente concentrati su queste nove partite poi andrà an parlerà coi ragazzi dirà signori è il 24 maggio che cosa facciamo noi dobbiamo decidere se andare a prendere un numero 10 o un portiere oppure come speriamo come vogliamo come desideriamo come auspichiamo continua continuare con voi l'offerta la sapete che cosa ci dite e solo allora il milan prenderà le sue decisioni se come tutti ci auguriamo cialanoglu e soprattutto gigio donna rumma gigio prodigio rimarranno al milan milan incomincerà la campagna partendo dall'acquisizione di tomori se i giocatori invece diranno no non accettiamo l'offerta il milan con abbracciandoli ma un po soffrendo perché milan vuole continuare con donna rumma e con cialanoglu vuole fortemente continuare con donna rumma e cialanoglu che cosa farà il milan dirà che sarà costretto a guardarsi intorno per un altro portiere e un altro numero 10 mai lo vorremmo il 24 maggio lo forse lo sapremo dopo i primi colloqui ma in queste nove settimane o meglio in queste nove partite il milan vuole assolutamente essere concentrato e non disturbare i giocatori e non parlare dell'argomento coi giocatori a meno che i giocatori donna rumma e cialanoglu facciano questa sorpresa bussano alla porta di casa milan dov'è il foglietto che firmiamo e questo è un sogno speriamo che sia il sogno della realtà e non della irrealtà se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al caro youtube di carlo pellegratti grazie